Mescolavano acqua al carburante per guadagnare di più ed evadere le accise questi riscontri delle indagini dei militari della Guardia di Finanza di Bassano che ha posto sotto sequestro la stazione di servizio Eva Colceresa lungo la strada provinciale Vecchia Gasparona con annessi 18 mila litri di benzina in gasolio. Il sequestro è scattato nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli finalizzati a verificare aumenti ingiustificati dei prezzi di carburante e il corretto assolvimento delle accise. Le fiamme gialle hanno sequestrato tre serbatoi interrati, due colonnine di erogazione carburante con complessive quattro pistole erogatrici e una cassa automatica. L'indagine era partita da alcune verifiche nei confronti della Synergy SRL con sede in via Monte Napoleone a Milano, società che opera nella distribuzione degli idrocarburi a livello nazionale e che a quanto si apprende dal loro sito conta più di 150 punti di distribuzione in tutta Italia e presso il punto di distribuzione di carburante al dettaglio a Colceresa. Nel corso delle intagini, alla ricerca di eventuali miscelazioni di prodotti petroliferi in evasione di accise IVA, sono stati eseguiti presso il tributore alcuni accertamenti con strumenti idonei a verificare la composizione degli idrocarburi e la quantità di erogazione.